La Maratonina dei Borghi 2012, nata nel 2006, ha raggiunto in pochi anni proporzioni internazionali, ospitando alcuni dei corridori più forti a livello mondiale. Anche quest'anno Pordenone è pronta a ospitarla nelle vie cittadine. Il percorso infatti attraversa il centro storico della città, snodandosi tra i lunghi portici e i palazzi affrescati, passando poi per i borghi di Torre, Borgo Meduna, Villanova e Valle Noncello, fino al rettilineo finale che conduce i corridori all'arrivo in piazza 20 Settembre, al centro città. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. La Maratonina dei Borghi, dal punto di vista sportivo, è giudicata una manifestazione di grande qualità. Ma noi quest'anno abbiamo voluto aggiungerci qualcosa. Abbiamo voluto fare in modo che, sul modello di quello che succede a New York, la città viva questa manifestazione da vicino. Abbiamo coinvolto quindi i vari quartieri, i vari rioni, per fare in modo che questo percorso venga accompagnato da musica, dalla gente che faccia festa. Insomma, la Maratonina diventi ancora per Pordenone un motivo per stare tutti insieme, per fare comunità e rilanciare di fatto la Maratonina stessa che ha bisogno di avere più gente presente a Pordenone. La Maratonina dei Borghi è cresciuta, è una maratonina che ha delle buone valenze a livello italiano e anche forse internazionale. Quest'anno c'è una novità molto importante, c'è il coinvolgimento delle circoscrizioni alla festa della Maratonina. Quindi lungo il percorso ci saranno queste varie iniziative che renderanno ancora più allegra e vivace la città. Quest'anno abbiamo voluto anche chiamare una personalità nell'ambito proprio italiano che è il professor Crepè, il quale presenterà un po', parlerà della corsa, ma non solo, parlerà anche del perché andiamo di corsa sempre. Sarà giovedì alle 20.30 all'auditorio della Regione, quindi finalmente riusciremo a capire perché la gente corre tutte le domeniche e anche durante la settimana.